Il presidente di ANAS Gianni Armani non ha dubbi, entro il 18 luglio tutti i cantieri della Salerno Reggio Calabria chiuderanno lasciando le cave già de sgombre. Intanto però i disagi proseguono su diversi tratti nevralgici nei quali si procede su una sola corsia per senso di marcia. C'erano lavori in corso anche nella Galleria Iannello, teatro domenica mattina del tragico schianto in cui sono morte quattro persone, tra cui un bambino di otto anni. Inoltre si procede a rilento tra gli svincoli di Cosenza e d'Altilia, dove si sta procedendo al rifacimento del manto stradale e delle giunture di alcuni viadotti. Le lunghe corde sono quotidiane e mettono a dura prova la pazienza degli automobilisti. L'autostrada del Mediterraneo, così ribattezzata dopo la sua inaugurazione celebrata dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, continua dunque a suscitare perplessità. Cambiare il nome non è servito a cancellare la vecchia cattiva abitudine di concentrare gli interventi di manutenzione proprio all'inizio della stagione estiva, con buona pace, degli operatori turistici. Intanto da domani in edicola insieme al Quotidano La Repubblica sarà distribuita la guida curata da Giuseppe Cerasa sul patrimonio paesaggistico custodito nei luoghi attraversati dall'autostrada. Alla presentazione del prodotto editoriale ospitata a Roma, ha partecipato anche il presidente della regione, Mario Oliverio. Salvatore Bruno per la CNews24.